ciao a tutti abbiamo un robot mas 5 che si chiama mister smart dentro c'è un robot e telecomando indietro c'è un pulsante per accendere poi sul telecomando anche su robot c'è ci sono programmi che può programmare poppy programmare metti la musica schiacci p per play può cambiare schiacciando ancora la musica cambia la musica cambierà ancora schiacciando musica cambierà ancora sono pulsante per aumentare volume e abbassare volume può anche farlo ballare schiacciando questo può schiacciare questo per andare avanti questo per andare indietro per girare destra per girare sinistra può farlo sparare e questo quello che esce può registrare ciao a tutti ciao a tutti ciao può farlo raccontare le fiabe storie il corpo assetato c'era una volta un giovane corpo che viveva in campagna in un'estate molto calda e secca lui era molto assetato e non riusciva a trovare dell'acqua da nessuna parte come posso sopravvivere ha pensato devo bere o morirò disidratato proprio in quel momento vive una fattoria fuori dalla casa c'era un vaso con un po' d'acqua sul fondo il corpo provò a terra ma non riusciva ad arrivare all'acqua sul fondo non sapeva più cosa fare si affoggiò al vaso e iniziò a piangere per favore qualcuno mi aiuti si inviozzò il corpo piangeva e piangeva ma nessuno lo sentiva poco dopo si asciugò gli occhi e si alzò cercò di rovesciare il vaso ma era troppo pesante per il volume per avvassare e il corpo riusciva a bere che acqua fantastica disse il corpo sono contento che non ho perso tutto il mio tempo piangendo pensare è molto meglio di piangere devo mettere anche play allora vado via pausa e play sono tornato ciao a tutti